ragazzi eccoci, rieccoci, scusatemi ho avuto un po' di problemi di rete è caduta rovinosamente la rete quindi vi chiedo scusa direi che però ripartiamo ripartiamo al volo e andiamo veloci veloci con il nostro Mudblazer ok allora dicevamo proviamoci ancora vediamo se stavolta la rete ci aiuta Mudblazer che cos'è? è una libreria che ci permette di aggiungere al nostro progetto Blazer una serie di componenti che danno al nostro software un aspetto, una UI una look and feel basato su materiale design piuttosto che utilizzare l'idea è quella piuttosto che utilizzare il template di default che integra bootstra proviamo ad utilizzare questa libreria su kit per vedere che cosa ci offre che cosa è di cosa e come la possiamo integrare come si possiamo lavorare quindi cosa abbiamo fatto? abbiamo aggiunto il nostro pacchetto il nostro pacchetto Nuget Mudblazer abbiamo aggiunto all'import il nostro using al file import.razor abbiamo aggiunto all'index.html i riferimenti sia al font di google al font robot scusate della google font sia al css di Mudblazer che si porta dietro il pacchetto Nuget che abbiamo appena installato e abbiamo aggiunto anche il riferimento al javascript abbiamo tolto il riferimento sia a bootstrap che all'app.css qua parla di site.css ma in realtà in blazer webass via l'app.css e abbiamo e abbiamo poi registrato nel nostro program nella dependency injection questi servizi del pacchetto quindi invocando il metodo sulla service collection ad demand services abbiamo aggiunto anche al layout.razor questi tre componenti che sono il team provider che è l'unico obbligatorio un provider per i dialog quindi per le le modali e uno snackbar provider quindi per mostrare gli snackbar quindi le notifiche i toaster allora abbiamo abbiamo sistemato un po' il layout di 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 abbiamo provato mentre o meno a fare a mettere una appbar singola e a questo punto vediamo di capire un attimo i concetti scusate che chiudo un attimo ok allora vediamo cosa ci dice wireframe benissimo wireframe abbiamo detto questo è ok e questo semplicemente ci mostra un titolo iniziale una serie di icone eccetera eccetera oddio in realtà potrebbe anche avere senso questa quindi con la con l'app bar vediamo se possiamo aprirla con l'app bar fissa e il menu che appare scompare potrebbe anche avere senso in realtà con il login display che viene mostrato qui vediamo allora altrimenti componenti vediamo forse container vediamo questo è il container quindi è quello in pagina abbiamo detto nav menu ok questo è il nav menu basic mad nav menu mad text square true ok mad paper no ok è questo mad nav menu mad text mad divider mad nav link ok mad nav group expanded ok quindi questo è il gruppo cerchiamo un attimo in rete se troviamo qualche esempio di menu orizzontale mad blazer horizontal nav menu navigation menu che è quello che stavamo vedendo prima mad nav menu vediamo style no tag mad nav menu API che è quello che stavamo vedendo prima ok ok oddio potremmo anche in realtà semplificarsi la vita e lavorare con il il menu in verticale se quindi noi andiamo qua nei wireframe potremmo avere il nostro menu la nostra adbar fissa e il menu che appare scompare quindi è una cosa di questo tipo copiamo anche il codice vediamo cosa cosa fa ok vediamo ok qua abbiamo il nostro body il nostro nav menu adesso lo sistemiamo come si deve ok drawer toggler questo qua semplicemente mostra e nasconde il menu fa il toggle del menu va benissimo e va bene mi sta bene type h5 questo lo chiamiamo no kit ok questo mad icon button settings e per adesso direi che va più che bene perché qua con il nostro href ok questo gli diamo allora on click perché questo vuole un evento e quindi open settings page ok qua facciamo questa e in realtà qua prop navigation manager navigation e qua diventa navigation .navigate to settings se non ricordo male l'avevamo chiamata così esatto benissimo va benissimo poi qua abbiamo il nostro nav menu che andiamo subito ad aprire e iniziamo a a dargli un attimino di look and feel diverso esatto vedete qua avevamo tutta questa porta qua questa porta qua la possiamo per il momento commentare e poi a questo punto in realtà questo mal app abbiamo abbiamo anche il link per il login display quindi mettiamo il login display qui e dato questo login display dopo lo andiamo a rifattorizzare un attimo concentriamoci sul menu abbiamo detto menu verticale ma direi anche di questo tipo quindi se noi con le icone quindi se noi adesso andiamo a copiarci questo facciamo così mad nav menu mad text ok mad nav link ok quindi mad nav menu questo qua va più che bene in realtà il divider l'unico link che abbiamo adesso gli unici due link che abbiamo adesso sono la dashboard quindi dashboard e le streamings quindi saranno due mad nav link ci limitiamo a mantenerne due così dashboard quindi va benissimo in realtà era questo esatto e mentre qua era streamings field video ci sarà video 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 vediamo ok va bene diamo un'occhiata alla documentazione per quanto riguarda il discorso icone perché madblazer come vi dicevo porta con sé una serie di icone che sono disponibili attraverso degli numerativi per capirci degli enum in C sharp quindi vediamo un attimo se troviamo esatto eccole qua le icone di madblazer vediamo se troviamo qualcosa relativo ai video 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 cam ok questa torniamo su video studio video cam e la chiamiamo non dashboard questa non era dashboard ma questa 1 e questa era così fantastico ok in realtà per il momento volevo commentare questo vedere cosa succede se io adesso provo a lanciare l'applicazione non in the bug però in modo da da provare ad utilizzare l'autre load diamo un'ultima prova sperando che la collettività ok vedete che qua non c'è niente perché non abbiamo linkato il nav menu all'interno del nostro main layout infatti vedete che il nav menu qua non c'è se noi adesso togliamo questo e chiamiamo nav menu rebuild mi sta bene adesso lì qua sta facendo partire l'autre load quindi se tutto va bene ok vedete che abbiamo dashboard diretta è fantastico mi piace naturalmente la dashboard ancora non è stilizzata vedete che qua abbiamo il nostro bottoncino di settings se vado qua esatto vedete che mi porta la pagina di settings che però è ancora stilata in modo con il vecchio stile con il bootstrap quindi ok siamo riusciti a fare questo la pagina di settings la vediamo dopo il nav menu lo abbiamo più o meno fatto e vediamo poi come sarà a livello di stile ma in realtà questa parte non ci serve perché il toggle lo viene fatto dal main layout rebuild and apply fatemi vedere una cosa ho 3 load on file save ok va bene ok a questo punto proviamo a stilizzare un attimino a stilare scusate non stilizzare a stilare il login display quindi tutto quello che riguardava il mostrare all'utente vedete che qua è un po' bruttino è un po' bruttino e quindi noi potremmo andare ad inserirgli una 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 drop down una select snack bar select progress rating pickers no vediamo link mud link ok avremmo potuto utilizzare i mud link in realtà per quanto riguarda tutta tutta questa tutta questa parte ci sono questi però non mi piacciono molto per lei va bene menu 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 che è questo però eh si direi che possiamo utilizzare questo però esatto potremmo utilizzare questo allora vediamo che stile hanno così questo mud menu label open menu ok quindi invece che avere questo hello eccetera eccetera ma customization variant color primary ok io non c'è un template non mi piace no non mi piace ok find inputs element no dialog container chips no sono button ok button un button un pop pop vediamo questo è un bottone normalissimo vediamo se troviamo qualcosa di expansion panel no questo è un accordion hidden highlighter rating scrot top simple table schelet snack bar swipe area tabs timeline toolbar eccola qui l'abbiamo trovata l'abbiamo trovata mad icon button è una mad toolbar una mad toolbar esatto questa non è male quindi già non è in realtà sarebbe qua quindi mad toolbar edge immagino no ok madspacer quindi in realtà no questo ok facciamo così proviamo a mettere questi due in una toolbar poi vediamo 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 eh infatti dicevo non avrebbe il dato vediamo cosa succede a metterli in una toolbar ok è già è un attimo migliore quindi in realtà io vorrei capire come fare il menu display quindi c'è anche l'avatar tra l'altro appbar che sia questa si è questa è questa è questa appbar no questa è l'appbar e va bene ok niente qua abbiamo anche l'avatar potrebbe essere carino con l'icona ah c'è anche l'immagine questa è carina allora vediamo se riusciamo a capire come mettere perlomeno l'avatar qui quindi se io adesso qua gli mettessi un mother avatar variant outline mettiamoli là cosa succede? non è bellissimo in realtà non è bellissimo ma proviamo a dargli color info outline a variant qui ok si è bruttino è bruttino è bruttino è bruttino perché perché questo deve essere un bottone quindi diamogli un bellissimo bottone toggle icon ah ok questo no fab che sia questo button ok mad button con icon button però questo anche con del testo no non c'è possibilità proviamo a mettergli un mad button all'interno di questo vediamo cosa succede niente rebuild è un po' lento a ritrovare rebuild eh bruttino eh bruttino 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 eh il testo ci sarà qualche qualche esempio about about versions customization features eh mad blazer vediamo un attimo se troviamo login eh user toolbar vediamo se qualcuno ha qualche esempio mad blazer template vediamo ok qua ci sono un po' di template e effettivamente questo già fa ha già una una struttura decente carina vediamo ci vado qua template mad blazer admin dashboard ok shared nav menu benissimo e questo ok main layout mand menu ok vediamo ok vediamo 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 già se io cerco già ad esempio questa questa immagine con con l'utente qua non è male non è male però mi piacerebbe templates content no quindi stanno sotto src template mad blazer admin dashboard basis authentication no questa è tutta la parte di authentication sarà nel shared login layout no questo è proprio layout della pagina di login ok questo vediamo se troviamo esatto activator context mad menu mad menu activator context mad avatar ok 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 perfetto quindi dobbiamo metterci un mad menu qua un bellissimo activator context content esatto esatto e qua gli mettiamo il nostro bellissimo avatar ma in realtà l'avatar potrebbe aver senso frapparlo ad esempio su gravatar io ho gravatar in realtà legato dagli account e quindi potrebbe aver senso child content mad text vediamo se ritrovo kit vediamo se riusciamo a farlo ribuildare ok si è un po' bruttino effettivamente è un pochino bruttino anche qui log out magari facciamo così person card mad list item ok mad list item va bene mad list item perfetto e text no scusate punto di user ntt punto ok sta ribuildando mi piace poco mi piace poco mi piace poco perché esatto e se io qua io mettessi questa vediamo cosa succede all'avatar se gli metto un bruttissimo bruttissimo punto first punto to upper cos'è un char questa ragazzi non l'ho fatta è una è proprio brutta brutta log log out vediamo autentication log out vediamo vediamo e vai già non è bellissima ma c'è un po' di non mi piace molto ma divider a quanto buona anche l'hot reload ha finito di andare bene quindi direi che stoppiamo ctrl f5 e vediamo cosa succede vediamo cosa succede allora non mi piace diamogli un mud spacer vediamo no brutto brutto non mi piace proprio togliamolo dalla toolbar anche anche questo no no a quanto pare ok dobbiamo restartare l'applicazione brutto brutto ragazzi brutto brutto va bene niente allora devo un attimo studiarmi eventuali eventuali layout ma direi che andiamo avanti senza perdere l'ulteriore tempo per adesso va bene così ma sicuramente il layout cambierà un pochino ok abbiamo fatto login abbiamo vediamo no logicamente non è più su quindi va bene così adesso andiamo avanti vediamo cosa cosa abbiamo ancora la pagina di index che effettivamente ancora banalmente sotto bootstrappa semplicemente un h1 e quindi adesso chiudiamo un po' i link ma poi li riprenderemo ok abbiamo il discorso del container quindi in realtà tutto il contenuto sta all'interno di un container questo mad container ok you can set the max width ok fix the property ok mad container se noi questo contenuto lo mettiamo in un mad container sfruttiamo anche qui i wireframe che ci offre l'applicazione perché in realtà è fatta abbastanza bene ed è mad container da una serie di 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 classi che noi possiamo andare poi a riutilizzare anche qua ok però se noi adesso questo lo riavviamo ok vedete che già è un attimino diverso un po' più strutturato ok perfetto partiamo dalla pagina di settings vedete che qua c'era la nostra paginetta di settings in realtà noi abbiamo una pagina di una pagina di admin questo page layout che aveva un pochino di struttura quindi potremmo provare a capire come come strutturare tutto quindi esatto benissimo quindi sicuramente abbiamo bisogno di un mad container anche qua max with forse sfruttiamo quello che dava lui di cosa abbiamo bisogno avremo bisogno di avere una toolbar con titolo e bottoni in fondo vediamo un attimo toolbar esatto come questa come questa fantastico quindi sicuramente una mad toolbar con di sicuro un mad text andiamo un attimo text text rst tooltip form inputs and control text field no questa esatto element no ma direi che un h3 può andare bene quindi h3 si logicamente e poi abbiamo bisogno di un mad pedicer e della nostra toolbar ok e poi avremo bisogno in realtà questo page content può andare via perché page content noi avremo bisogno ok control f5 vediamo se dobbiamo farlo ripartire e già così non è male già così non è assolutamente male andiamo a prendere page content ad esempio quello di settings ok va bene già qui qua facciamo un mad button mad link ok vediamo un attimo la documentazione link ok un po' bruttino no abbiamo bisogno di un bottone ok variant field variant color primary ok ok va bene mad button color color ops settings new esatto guardate già così è molto meglio mentre in realtà il contenuto adesso dobbiamo ragionarci un attimo in realtà anche il titolo non mi piace molto di solito sotto typography ma cosa da dire typography oh benissimo mad text typo ok 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 anche qua ce l'abbiamo fatta quindi mad text typo.h3 vediamo beh già è carino se io qua ci metto già un hr così così in realtà questo h3 potrebbe già andare giù a h5 prima di tutto si già molto meglio così l'hr mad divider sarà divider eccolo qua si mad divider lo scriviamo invece di questo carino si già così è molto meglio e qua sotto ci va ci andrà la pagina quindi potremmo mettere tutto ad esempio se andiamo a prendere un white frame questa pagina qui quindi lui qua più o meno vediamo cosa cosa dava dava una mad grid ok quindi mad grid ok qua la divido in due in realtà spacing 6 mi piace molto vediamo un attimo ok mad grid gli diamo mad item questo questo potremmo mettere addirittura a fronte del page layout mad grid ok in realtà in realtà il page content lo possiamo portare qua dentro ok mi piace già di più così 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 sicuramente mad paper va bene class PA4 class PA4 cosa vuol dire e qua dentro io direi che gli possiamo mettere il contenuto quindi if questo else a questo punto la cosa carina è capire come fare tabelle quindi questo lo chiudiamo componente tabelle simple table va più che bene alla simple table ok mad simple table overflow x auto questo me lo copio e poi il resto in realtà è thead questo è tutto uguale quindi hopla andiamo a togliere questa raw cosa succede vediamo cosa succede no non mi piace no non mi piace perché boh non ho capito perché non è lungo tutto vediamo dove è giusto contro f5 vediamo no non è per niente un gran che allora oltretutto qua proviamo a creare un setting nuovo al netto della UI però no è proprio brutta è proprio brutta 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 vediamo vediamo perché mi dà una cifra di di spazio è la griglia 12 12 magari eccola qui si è un po' bruttina non ha molto margine in cima apre un attimo e vediamo cosa succede voglio dare un'occhiata qua perché questa era in realtà era carina eccola qui mt16 questo questo è la differenza mt4 margin top 4 esatto molto meglio molto meglio molto molto meglio a dire anche per queste informazioni qua di settings probabilmente la cosa migliore da fare è mostrare in una lista perché sono sempre quasi fondamentale quasi sempre un record soltanto però direi che che va bene così per adesso va bene così andiamo a vedere la pagina del form tanto abbiamo dashboard dirette o di volendo menu di impostazioni potrebbe essere qua in fondo invece che qua in alto però va bene allora localizer ok allora no ci manca un href in realtà qua perché questo bottone vorrà dire che qua dovrò iniettargli di navigation manager se non mi perdevo la property navigation andiamo a iniettare navigation manager navigation e sul click di questo bottone open new settings page ok quindi questo questo lo possiamo togliere e se tutto va bene se non abbiamo sbagliato niente esatto lui mi apre la mia la mia nuova configurazione benissimo ma in realtà anche qua usando sempre un bottone molto probabilmente la anche la tuba potremmo renderla un pochino più intelligente magari utilizzando un componente che vrappa un bottone e che magari gli viene passato gli viene passata solo la action da eseguire però va bene per adesso va bene così quindi anche qua ctrl c nella pagina di settings anche qui vediamo questo è stoppato tutto logicamente back to settings page così in realtà noi qua l'inject ce l'abbiamo già qua in cima io non ho capito perché effettivamente l'inject l'ho messo qua in fondo così quando potevo metterlo tranquillamente in alto vabbè anche qua misteri inject questo mettiamo qua sotto così vediamo anche come navigation come come impostare i form quindi ok qua c'è benissimo color primary page title page content adesso da qui abbiamo il nostro edit form e vediamo cosa succede perché l'edit form è in realtà un componente di blazor stesso quindi bisognerà capire come e se soprattutto lo wrappa form inputs and control vediamo abcd e form input and control form eccolo qua edit for support with data mad blazor input and support if you put them into an edit form va bene mi piace quindi in realtà dice dentro edit form gli metti quello che ti serve i mad card con tutto quanto possiamo usare mad text field mad card se non volessi avere una card cosa succede se io ti dicessi ok questa cosa qua mi va più che bene questa mi diventa questo ad esempio l'alert iniziamo dall'alert che è un pochino più più carino ok ok partiamo da qua questo momentaneamente lo commentiamo e tutta questa parte qui in realtà commentiamo anche questa lì mi dice show errors questo show validation summary mad expansion panel ok potremmo lavorare su questo in realtà questo mad expansion panel va bene lui qua usa una mad card cosa succederà proviamola ok vorrei capire anche le card a sto punto come vengono utilizzate outline header media combine però no non mi piace molto non mi piace molto la card andrei proprio di mad paper ok quindi mad text field in cui ho label uguale questo localizer però ad esempio anche qua noi in realtà sulla parte di form avremmo avremmo dobbiamo avere una vediamo un attimo focus select select range inputs adornament esatto questa qua dobbiamo avere questo adornament va bene che è questa che a me piacerebbe questo stile in realtà questo outline qui in fondo quindi direi che ultimo terzo ultimo amount questo mad text field bind value label variant outline adornament adornament start bind menu value è un model punto twitch channel adornament adornament uguale variant outline outline adornament text uguale a questo ok proviamo a riavviarla quanto pare si è perso un attimo vediamo cosa salta fuori probabilmente non sarà bellissimo beh dai non è male così non è malvagio eh canale twitch così non è male ci sta ci sta carina e in realtà a questo punto volevo vedere anche nei form come viene gestito il discorso dei bottoni quindi ah perché qua usava mad card action uff si non è male eh validate ori proviamo a dare un altro mad paper mi piace poco e gli diamo un mad due due mad button color color punto primary variant variant outline color punto primer ok bruttino 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 no molto bruttino proprio brutto brutto ok mi è convinto mad card mad card content mad card actions eh si già così è già un attimino meglio andiamo in button andiamo in button andiamo un'occhiata ai button ok variant field ok color primary outlined ok quindi questo in realtà è variant 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 .field ok mad button group button group eccoli qua ah ci sono poco anche qui magari facciamo così mi mettiamo una classe mr-4 esiste ok già qui è già molto meglio mi piace già di più sì non è malvagio annulla salva per quanto riguarda invece la data annotation the annotation validator anche qua simple form edit form support ok quindi qua form for ah input type button type sarà button type questo è carino ah ok se c'è da fare questo giochino lo possiamo fare ma non adesso e ok fatemi vedere una cosa se io faccio così faccio nulla non fa niente questo perché se io adesso vi dico type reset funzionerà button type button no vediamo di capire il submit button type è questo si c'è da giocare un po' con l'api button type uguale a eccolo qua eccolo qua andiamo torniamo a rifresciare benissimo benissimo fantastico 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 ok 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 questo button type che che livelli ha button submit reset perfetto ok quindi vediamo un attimo la validazione invece come la mostrava era questo expansion panel validation summary e però for ok io anche qua in realtà for ok questo è proprio quello che ci serve model punto twitch channel oppla lo sta ricaricando andiamo in tempo the twitch channel field is required fantastico molto bene molto bene mi piacerebbe sapere però perché questo è in in inglese ma è un altro discorso però è carino struttura non è male dobbiamo un attimino impostare il tutto poi mentre qui qua ad esempio se questo non è null allora poi diciamo mad paper e mad divider in questo mad paper vediamo un discorso testo tipografi highlighter no link no di sicuro element forse questo element ah no questo è proprio un'altra cosa oddio potremmo mad text color ok si dobbiamo usare questo questo mad text color error error message non mi dispiace ok ok già già così siamo riusciti ad avere un pochino di di cose che avere una struttura un po' diversa direi che questo bottone di settings lo spostiamo qua non mi piace per niente lì e quindi sicuramente andiamo a prendere il nostro main layout e togliamo questo qua mettiamo questo login display questo login display in realtà poi ci verrà comodo dopo ma qua dentro mi piacerebbe mettere mad spacer mad nav link href settings icon uguale icons punto field punto settings no settings e questo diventa localizer di name of ressources punto shared vediamo ok si già così è già molto meglio già così è molto meglio mi piacerebbe capire come fare se c'è qualcosa lato nav menu per abbassare l'ultima voce mi piacerebbe che vada in fondo subgroup icon no va bene direi che va bene così qua va bene è vuoto perché stiamo utilizzando in realtà un database in memoria quindi non mi aspetto niente di diverso in realtà il discorso diretto e tutto quanto sarà una copia del resto quindi ci lavoriamo un attimo giusto per avere una struttura comune sulle pagine che abbiamo e per non perderci nulla quindi chiudiamo un po' di cose già così è già così è molto meglio qua magari gli mettiamo di fianco il nome e magari cliccando far venire fuori il bottone di logout vediamo non lo so va bene quindi direi prendiamo la pagina del live pagina di index la pagina di index abbiamo detto sicuramente questo mad button però aspetta che vi dico io qua da subito mi creo un componentino che chiamo razor component lo chiamiamo toolbar navigation anzi navigation button nav button questo nav button avrà inject navigation manager navigation esatto sì come parameter prop stringa link page link page link page link mi piace page sì void on button clicked navigation navigation punto navigate to page qua dovrebbe essere allora una cosa che hanno aggiunto in blazor nuova è anche required parameter blazor required parameter dotnet 6 così vediamo anche qualcosa di nuovo perché c'era anche tutta la parte di parameter required se non ricordo male required blazor compone un parameter eccolo qua editor required questo questo è molto interessante questo questo tributo editor required fa in modo che questo parametro diventi obbligatorio nell'utilizzo del parametro infatti infatti se noi adesso qua io vado a prendere questo questo link questo link in realtà ad esempio questo può diventare un anche questo parameter editor require prop string label ok questo diventa label e invece questo diventa on button click ok a questo punto se io mi faccio furbo qua dentro nav button e gli dico label questa vedete che già mi dice che è obbligatorio e ed è ed è sottolineato e mi dice anche che vuole un parametro per page in realtà page uguale qualcosa e questa page sarà questa quindi io qua in questo modo già sto togliendo un pochino di colza dalle mie pagine perché alla fine questo bottone farà sempre la stessa identica cosa e non ha molto senso che venga ripetuto in giro per le mie pagine va bene stessa cosa anche qua io ti dico nav button ok in realtà io sono pigro e quindi non mi piace ripetere più volte le stesse cose e valutare questo page uguale page uguale page uguale no settings ok e questa va via ok credo che ah no infatti non ho più avviato è vero non è più su niente scusatemi allora adesso andiamo avanti dicevamo la pagina di index anche qua toolbar in realtà nav button label uguale questa mentre page uguale questa ok poi in realtà tutto il resto questo page content lo copiamo dei settings che abbiamo detto mad paper quindi mad paper qua gli diamo un po' di stile adesso quindi questo ce lo copiamo questa va via ok ok fantastico questa table in realtà mi diventa una mad simple table ok in realtà poi adesso questi bottoni gli diamo un'occhiata come farli vediamo un attimo il discorso della tabella perché questa tabella è un attimino più complessa ha dentro anche dei bottoni quindi mi piacerebbe capire se c'è qualche tabella inline header and footer fixed header inline edit mode server side non mi interessa table virtualization click event vediamo questo ad esempio con la paginazione così sarà alla fine sarà la lunga la struttura di base sorting va bene multi selection non ancora fixed header fixed footer probabilmente a questo punto qua invece di questa mad toolbar di questa avremo di questa bottom group di bootstrap avremo una mad button group che adesso andiamo a vedere come è fatta mad button group buttons ok button group eccolo qui fantastico vertical con l'icona questa questa icon button questa ok è questa carina anche ok quindi mad button group color primary variant outline questa color con il punto primary perfetto color color punto primary varia in realtà poi il suo interno avrà n bottoni quindi va bene ok quindi avrà un mad button icon start icon uguale a icons punto icon se gli metto magari la chiocciolina field punto questo era gli abbiamo messo la eye ok ritroviamo le icone ritroviamo le icone perché non le ricordo removed red ai mamma mia che nome che ne è andato remove red ok e in realtà siamo button group ok si al suo interno questo qui la stessa cosa col trash con questo col delete questo lo possiamo cancellare ok però restore from trash mamma santa trash delete va bene ok control f5 vediamo cosa salta fuori vediamo cosa siamo riusciti a combinare e poi direi sistemiamo il form che è un attimino più più complesso effettivamente questo ha un pochino più di campi quindi potrebbe aver senso fare in giro si si adesso direi sistemiamo il form facciamo una prova di inserimento questo qua si è fatto un po' maluccio poi lo sistemeremo direi facciamo una prova di inserimento sistemiamo il form facciamo una prova di inserimento per vedere che come si vede in table e poi ci siamo vedete che in realtà purtroppo la pagina è ancora un po' è ancora un po' messa un po' bruttina quindi anche qua nav button ok nav button label ed è questa una cosa una cosa che non mi piace che non mi da è il fatto che vada in automatico streamings che vada in automatico sotto in tutto ok bene vedete che già qua è molto meglio ok page content edit for mi va benissimo lo prendiamo da qui quindi data notation validator ok se questo non è vuoto allora diventa questo e mi piace bene poi facciamo una mad card mad card content mad card actions mi piace già di più in realtà questi due bottoni saranno più o meno la stessa identica cosa quindi direi che al netto di sistemare un pochino ok save save ok common localizer cancel common localizer save in realtà questi sono tutti uguali ok adesso la parte più grossa è di capire tutti i vari input che abbiamo perché sicuramente questa parte qua adesso la pagina sarà assolutamente rotta io ho salvato quindi lui sta ricompilando con l'hotreload ma la pagina vedete che è comunque rotta noi abbiamo qua la nostra bellissima card e dentro questa dobbiamo andare ad inserire tutti i vari tutti i vari contenuti del suo nostro form quindi ok lui dice mad text field vediamo un attimo qua com'era lui qua era un pochino complesso nel senso che bind value ok adornment non mi serve variante outline quindi sicuramente label è uguale a questa poi bind menu value model title ok for model model.title per la validazione ok poi qua qua ho salvato ok variant variant outline ditemi che è riuscito a ricompilare esatto già qui il titolo dovrebbe andare a posto ok vedete che già il titolo required benissimo mi piace benissimo non male in realtà qua noi avevamo un pochino di strutture in più perché avevamo anche la esatto esatto il titolo era a tutta riga poi in realtà avevamo un pochino di struttura vediamo se abbiamo qualche esempio sui form form vediamo se c'è qualche forma un po' più particolare questo ad esempio ha un pochino di struttura in più ah addirittura sta utilizzando una tabella e se io usassi una riga se io usassi una griglia c'è qua io gli dico mad mad grid vediamo la griglia vediamo la griglia features components grid ok basic grid questo è 12 quindi è come bootstrap come 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 logica ok quindi mad grid basic grid mad item ok md uguale 7 12 ok e anche qua cosa abbiamo qua abbiamo 7 5 ok quindi anche qua qua abbiamo mad text text field che è allora cominciamo a togliere quelli che abbiamo già fatto il title via qua abbiamo mad text field per lo slug quindi questo lo chiudiamo così label localizer slug bind meno meno veglio for model punto slug ok però va anche qua variant outlined outlined quindi poi questo in realtà era uguale a questo qui quindi questo adorned che sarebbe riuscire a oh che bello così però hosting channel url questo hosting channel label ok direi che è il caso di stoppare ho dei problemi con viso studio ragazzi mi sta occupando tutta la ho sfruttato troppo va bene diamogli un attimo ragazzi purtroppo abbiate pazienza ma viso studio sta sta crollando va bene speriamo di non avere chiudiamo viso studio nulla speriamo di non aver perso nulla vediamo cosa succede riapriamo viso studio abbiate pazienza ragazzi mi spiace ma oggi oggi a quanto pare non è la giornata giusta tra rete tra rete ok fantastico sembra che non abbiamo perso molto benissimo quindi in realtà anche questo via poi abbiamo una raw di 633 quindi 1 2 3 mark item xs uguale 12 prof Andrea Pollini eccoci ciao Andrea ciao Andrea ciao vibold grazie di essere passati grazie grazie ciao minotauro fantastico grazie ragazzi stiamo un po' stiamo ciao ciao grazie mille per il follow powerway grazie grazie stiamo un po' litigando oggi tra la ciao zion tra la rete che è cascata dopo un quarto turno di live quindi ho dovuto riavviare tutto tra viso studio che è è cresciato prima è cresciato e si è bloccato prima oggi la live è un po' un po' così oggi purtroppo la live non è delle migliori va bene capita stiamo lavorando un po' con la con la UI di Blazor con Mad Blazor esatto ma guarda esatto ho dovuto riavviare il router ho dovuto riavviare il router e riavviare la live sperando sperando tra l'altro che il router andasse che non ci fossero problemi perché sennò probabilmente avrei registrato avrei registrato la tutto e l'avrei piazzata poi su youtube dopo però grazie a dio sono riuscito a risolvere il problema di rete è stato è stato necessario solo un riavvio del router ok qui abbiamo la sistemando un attimo il form poi vediamo che effetto che effetto che fa però in realtà boh sembra carina non è proprio immediata immediata come libreria questa questo Mad Blazor c'è un po' da da smanettarci se in prima pagina nella categoria della live fantastico ma non me lo merito col livello di questa live non me lo merito proprio mi spiace mi spiace per chi capita eh sì praticamente sì ma adesso ti faccio vedere adesso proviamo subito model.schedule.date che sto man mano prendendo le pagine e svavoricchiandoci un pochino le live che vanno a casino sono le migliori vero verissimo neanche a farlo opposta foro for model.schedule.day qui sto compilando la struttura della pagina andando a fare binding con quello che è il mio modello e andandogli a specificare anche tutte le regole della validazione con questo attributo ad esempio lui andrà a validare questa proprietà ok poi 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 ma in realtà variant variant outlined in realtà ci siamo però questo ad esempio è un date picker quindi in realtà non mi serve il text field ma dobbiamo capire i picker come sono gestiti perché lui in realtà si porta anche una serie di picker che non sono malvagi esatto questo è quello culture current UI culture esatto mad date picker bind menu date quindi se io ad esempio questo non è mad text field ma è mad date picker bind ah sbagliato bind meno date ero qua bind meno date innovation ma in realtà dovrebbe essere giusto così vedendo la documentazione dovrebbe essere giusto così quindi proviamo e poi ho i time picker perché io qua ho due time picker e il time picker dovrebbe essere un'altra cosa esatto così questo dovrebbe andare bene con le 24 ore perché è quello che voglio io perché è quello che voglio io esatto editable mpm true ok no non mi serve in realtà mi serve un mad time picker secco secco con un bind meno time ok sperando che vada giusto quindi mad time picker ops e il time picker allora questo tanto lo andiamo a seccare via che non ci serve più il time picker è questo non so se ho preso l'iconcino la pioggia no però lo vediamo subito si l'ho presa l'ho presa bind meno time uguale a model punto starting time for mi diventa questa per la validazione model punto starting time variant uguale a variant punto out out se riesco a scriverlo in italiano in inglese ok e in realtà questo lo potrei anche copiare spudolatamente per l'ending time perché qua uff ho copiato sbagliato questo è lo starting time e questo è l'ending time starting ok c'è viso studio che ha deciso di crashare mi sta occupando l'80% della cpu però siccome non è non è giornata neanche di viso studio va bene direi che buonasera totti buonasera benvenuto stiamo giochicchiando un po' con mad blazer ma adesso chiedo viso studio perché sicuramente mi starete vedendo la gare perché ho viso studio che mi sta occupando il praticamente il 100% esatto della cpu ma siccome noi non ci fermiamo davanti ai problemi di viso studio 2022 apriamo viso studio code ko src live kit seleziona usiamo viso studio code e usiamo il terminal a questo punto io facciamo un po' di modifiche in uscita totti alla fine stiamo integrando mad blazer in kit e stiamo un po' giocando al netto che la live ha avuto un po' di problemi oggi come dicevo prima però ci siamo quasi quindi adesso io vado qui non so se vedete bene datemi un feedback però magari aumentiamo un po' il font preferenze impostazioni font editor di testo font size lo mettiamo a 16 magari dovreste vedere meglio vedete meglio così ragazzi in seguito ok quindi abbiamo ending time eccetera eccetera poi abbiamo la nostra bellissima textarea che per adesso rimane una textarea ma in realtà stavo valutando se tutta questa se tutto il contenuto dell'abstract di una live o di un qualsiasi tipo di contenuto portarlo ad esempio in markdown e vedere se c'è se c'è qualcosa perché non lo so ancora per markdown perché potrebbe essere in realtà interessante non so voi cosa ne pensate vediamo un attimo adesso vediamo però textfield immagino sia sempre sia sempre qua form input and control textfield multiline eccola qua multiline lines eccetera va bene d'accordo quindi direi che scusate copiamo questa copiamo questa e qua diventa e qua diventa ditemi che funziona intellisense anche qua che non mi da problemi su è un po' che non lo uso studio code va bene amali estremi estremi rimedi qua io avevo dato rose 5 quindi mi metto right lines 5 proviamo a vedere adesso se io adesso mi metto qua mi metto cd src cd lemonbot punto web se io faccio .net run faccio .net run non .net watch o run per evitare di di far morire la macchina che ho provato un po' di hot reload ci sono un po' di problemi convertire event callback what? oh niente faccio un altro provo visual studio non riesco a seguire gli errori dal terminal faccio un po' fatica magari anche non le 19 ma il 22 fatemi provare a fare una compilazione vediamo cosa mi dice visual studio io non lo so oggi è proprio una giornata una live un po' particolare a quanto pare perché vediamo ok va bene va bene non riesco a capire cannot convert system dei time forse è questo proviamo probabilmente è questo faccio una clean della solution facciamo una clean della solution e proviamo a ricompilare no time span cannot convert perché pickers time picker ecco questo può essere un problema off type time span beh allora 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 dai che ci siamo quasi volevo cercare di almeno vedere questa cosa il mio vmodel era questo no non gli piace si qua gli ho cambiato un tipo quindi clean solution fermi un attimo mad time picker bind meno time vediamo un attimo always use the two binding bind meno time ok time Inerit, format picker, adornament, icon size, picker action, placeholder Ah, cos'ha, cos'ha ancora questo qua Bind menu date, e mi va bene, e mi va bene Questo mi va bene Questa in realtà non possiamo andare a chiudere Sembra che Visual Studio abbia ripreso a non rompere le scatole D'accordo Allora, cosa vuole? Cannot convert them the expression to intended delegate type Because for some of the third types Line 513 Ma perchè io non vedo più la line? Mi ha trattato la line da Visual Studio Ma è naturalmente Tanto per cambiare è sul È sul IL È sul G È sul G Esatto Questi sono quelli compilati Vabbè Ragazzi, guardate Giusto per arrivare comunque ad un punto Poi ci indago bene Tutta questa parte io la Commento un attimo E proviamo a avviarlo E vedere cosa Cosa è stato fuori A questo punto Facciamo un CTRL F5 Senza lanciare il debugger E vediamo E vediamo Ok Allora, lui fa la line Vedete che già la struttura è un po' diversa È già migliore Con una Il menu qua a sinistra Che scompare Appare eccetera eccetera E qua c'è l'avatar Devo sistemare un po' Il discorso della login Per capire come Come è messo E la pagina delle impostazioni Creiamo una nuova configurazione Ricreiamo il canale Io vi ricordo che in realtà Sto utilizzando Un provider in memory Di Entity Framework Core Quindi in realtà Nel momento in cui io stoppo Si perdono tutti i dati Ma non è quello l'importante Qua abbiamo una nuova diretta Vedete che La struttura È già È già Di un certo tipo Mi spiace però Non avere le date Le date Perché in realtà le date Sono obbligatorie E quindi non potrei Non posso salvare Una Una live Quindi mi piacerebbe Però vedete che in sé È anche Abbastanza carino È anche Abbastanza carino Ma Allora Allora al netto di questi problemi Con I Timespan Eccetera eccetera Allora Al netto di quello Proverei a dargli Un Degli 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 record fittizi Per vedere la tabella Come viene fuori Quindi Al di là di questo Direi che questo Lo possiamo commentare Anzi Continua editing Questo così Ok Modifichiamo I controller Controller E in realtà Service Streamings Controller Service Gli diciamo Var Streamings Vuole New E poi Gli mettiamo New Streamings List Model Punto E Gli dico Gli dico Guido 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 Ending Time Vuole Time Span Punto Now Eh Date Time 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 Utis Now Punto Time of day Va benissimo Eh Starting Starting Time Eh Perché? Ah Perché questo è un date time Giusto? Quando la facciamo una live stile corso su blazor Tutti non è una brutta idea però devo pianificarla perché per fare un live stile corso cosa che non sono e non so se sono in grado di farla ci vuole una una scaletta ci vuole una una scaletta due bisogna davvero conoscere bene il tutto e quelli che la conoscono bene in realtà non è una scaletta. Non sono sicuro di essere di considerarmi un'unica che conosce bene blazor per cui devo magari prenderci mano anche per anche per ciao a ex per vedere tutte le novità di dotnet 6 perché sarebbe interessante si vedere a questo punto cosa che mi piace in dotnet 6 però eh Stavo in botto però va bene dai la studio la studio magari magari provo a mettere giù una scaletta la provo a condividere con la community vediamo cosa salta fuori vediamo se può piacere l'idea Miles grazie ma ragazzi non siete troppo gentili Daytime.today.utcnow Va bene Daytime.utcnow.addhours Va bene ragazzi dai vorrà dire che mi impegnerò durante il periodo di vacanza per per vedere un attimino ciao Giuseppe per vedere un attimino il tutto per cercare di mettere giù una scaletta dai proviamo Ci provo ci provo ci provo dai la scheduliamo La scheduliamo molto 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 volentieri Twitch.tv Dai Allora intanto che finisco di fare un Cosa Stop the application va bene Intanto che finisco di creare il mock per vedere il tutto Per vedere se perlomeno la tabella si vede in modo decente Io vi ricordo che martedì invece proviamo qualcosina di GraphQL Martedì sera verso le 18 Perché è stata fuori una discussion tra tra Che avevo aperto su github con I buon totti che Che è qui in live con noi E il buon skaman E perché avevo una mezza idea Di evoluzione di questo tool che sto scrivendo E quindi Poi adesso ne parliamo Voglio solo vedere questa cosa poi facciamo due chiacchiere E vediamo anche la live di martedì prossimo E poi vi lascio per stasera Perché in realtà dopo Dopo tutto quello che è successo Che è successo in questa live Perché? Dai Che succede? Aiuto Fermi tutti Oh sì dai Ragazzi che ne dite? Non è male come Come struttura no? Non è male come Come interfaccia grafica così Che ne dite? Dai ci siamo quasi Non è male Non mi dispiace Non mi dispiace È carina Sì Buono Quindi Ok Direi che in realtà Al netto di questo Al netto di capire dove Dove ho gli errori La time picker E tutto quanto Che però lo farò Molto probabilmente offline A questo punto Perché Non so quanto Non so quanto tempo Dovrò cercare magari di Sì Ma Allora sul facile Ho un po' di dubbi Io Un pochino di difficoltà Le ho avute A girare la documentazione La documentazione in realtà È fatta bene È vasta E quindi C'è bisogno di Cioè secondo me È un attimino È un attimino Un po' Un po' Incartato In girare la documentazione Ti dico la verità Non è stata proprio Immediata Immediata Però L'effetto finale Mi piace molto L'effetto finale Mi piace davvero tanto E basta Poi in realtà Adesso vedremo Ha parecchi componenti In realtà già pronti Che Non è male Se funzionano Se riesco a far funzionare Adesso dei picker E time picker Siamo Siamo abbastanza a bolla Sì 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 Non è per niente male Va bene Quindi In realtà Per chiudere Per chiudere Il tutto Facciamo un attimo Un riepidogo Abbiamo Integrato Madblazer In kit Tutto il codice Lo troverete Sicuramente Nel branch Madblazer Del repository Su github Che vi linko in chat Tutta la documentazione Di madblazer La trovate A madblazer.com Ma adesso Vi giro anche il link Il link è anche a questo L'idea è quella Di integrare Madblazer In kit In tutta la UI A sto punto Utilizzare questo Perché mi sembra Abbastanza valido Come strumento E sicuramente Ci lavorerò offline Per quanto riguarda Rissolvere la cosa Ma allora Non martedì questo Perché facciamo Un'altra cosa Ma martedì 21 Sicuramente Faccio l'ultima live Prima di prendermi Un attimino Qualche settimana Di pausa A riorganizzare le idee A questo punto Visto che mi avete dato L'input Per provare a creare Un mini course Su blazor O anche magari Su esponette Su webappi Vediamo Ci ragiono un po' Cerco di mettere giù Magari un paio di scalettine E vedere se Riesco a creare Qualcosa di carino E che possa interessarvi Più che altro E proviamo a fare Questo Però Martedì prossimo Come vi dicevo Era nata una discussione Su GitHub Dove chiedevo Quale poteva essere Il modo Per esporre Delle API pubbliche Di kit Per gestire Una serie di contenuti Come ad esempio Eventuali corsi Come dicevamo prima Talk Vari Mettete che Mi salta fuori la pazzia Di andare a fare qualche talk Da qualche parte Non lo so Vedremo Le live Quindi la pianificazione Le live E kit vorrebbe essere Questo Kit vorrebbe essere Una console Di inserimento Dei contenuti In realtà Poi la parte Tutta la parte Pubblica C'è quella visibile Da un utente normale Pensavo di metterla Su static webapp Su Azure Non credo Che userò Blazor Come strumento Di client Stavo pensando In realtà A qualcosa Tipo Next.js Anche solo Per imparare Qualcosa di nuovo E mi chiedevo Come esporre Queste API Da kit Verso I vari client Che andrei a creare E le idee Erano REST GraphQL Avevo messo dentro Anche GRPC Anche se in realtà Non mi convinceva molto Come idea Effettivamente Non mi è piaciuta E tra il Buon Totti E il Buon Scaman Si riparlava E alla fine Ho pensato Di buttarmi Su GraphQL Perché Ho dato qualcosina Effettivamente Ho dato un'occhiata Ho orato anche Un paio di talk Ho guardicchiato Un po' la documentazione Di Hotchocolate Che è il tool Per .NET Per scrivere GraphQL Per integrare GraphQL In Aspenet Core E mi sembra Fatto bene L'idea 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 è carina Per creare Una serie Di API Per un CMS Tra virgolette Un mini CMS Headless Secondo me Molto valida Però Però Non volevo Non volevo Andare secco Diretto Su Kit Senza aver mai visto E toccato con mano Il tutto E quindi Sono andato a cercare Un pochino di cose E tra le cose Ho trovato Questo workshop Che è proprio Quello di Hotchocolate Di CD cream Per hotchocolate E quindi Un martedì 14 Pensavo Verso le 6 Più o meno Di andare live E fare una live Non so quanto Non so se ce la facciamo In due ore Se ci vorrà di più Se ci vorrà di meno Però Di fare questo workshop qua Quindi L'idea è proprio Quella di prendere Questo workshop E farlo insieme Che secondo me Deve essere Viene fuori qualcosa Di interessante Anche Da studiare Vedremo se Proprio Tutto tutto Il workshop Magari se La parte Magari di dati Di modelli E compagnia Me la creo io Offline Non credo di farcela Da qua martedì Però se riesco Magari a crearmi Per lo meno La struttura del progetto Da mettere su Vtab In modo poi Da lavorarci E martedì Tutti insieme Se vi va Martedì sera La media era questa Quindi Ci vediamo Sicuramente Martedì sera Dalle 18 circa Poi come vi dicevo Il 21 Quindi martedì dopo La mia idea Era quella di fare Un pochino di Scusate Un pochino di Di live coding Molto tranquillo Anche un po' Per stare insieme Un paio d'ore E farci gli auguri Visto che poi Comincia il periodo Intenso E poi ripartire A gennaio Non so ancora Se il 4 O l'11 Devo ancora vedere Devo ancora decidere Perché in realtà Il 3 Che è un lunedì Io ho il vaccino Ho la terza dose Quindi non so Come sarò ridotto Il 4 Quindi potrebbe essere Che slettiamo Direttamente all'11 O al sabato Prima Che è il Vediamo Ve lo dico subito Che è l'8 Quindi Si riparte Si riparte In una di queste due settimane Tra il 4 E l'11 Sicuramente L'ultima live L'ultima live Di martedì sera Sarà il 21 E poi Ci salutiamo E ci facciamo gli auguri Quindi Detto questo Nonostante tutte le difficoltà Siamo riusciti Perlomeno a portare a casa qualcosa Nonostante la rete Che è crollata Nonostante il Visual Studio Che ha deciso di Non collaborare Pienamente Stavolta Abbiamo avuto Un po' di difficoltà Però Io ragazzi vi ringrazio Per avermi fatto compagnia Anche in questa live Io vi ricordo Che trovate su Github Tutto il codice Che abbiamo visto Lo troverete meglio Perché non ho ancora Comitato Ma prima voglio cercare Di risolvere i problemi Che avevamo Che ho visto Sulla cosa Sì va bene Totti Tanto sicuramente Come al solito La caricherò su Youtube Anche se non è venuta Benissimo questa live La caricherò Come al solito L'uncut Su Youtube E quindi Io vi ringrazio Per avermi fatto compagnia E buon sabato Buon sabato sera A tutti Ci vediamo martedì A questo punto Vi ricordo Che la live La troverete su Youtube Preso molto probabilmente Già lunedì mattina Su un canale Twitch Trovate tutti i link Ai vari social Se avete dubbi Iscrivetevi su Twitter Su Linkedin Dove volete E mettetevi il piacere Se vi è piaciuta la live E buon sabato a tutti Buon weekend Ciao a tutti 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 Grazie a tutti